Tanti errori, troppi, quelli della En Bolerice, che ha perso per il secondo anno consecutivo le finali scudetto. Ad averla meglio è stata la Brixen-Sutirol, che ha vinto gara 1 in Alto Adige e a sorpresa è riuscita ad aggiudicarsi anche gara 3 in casa delle arpie, con il punteggio finale di 30 a 34. La En Bolerice ha pagato soprattutto un avvio non perfetto e tanto in precisione a metà gara, probabilmente causata dalla frenesia. La Brixen aveva battuto le campionesse in carica della IOMI-Salerno in semifinale play-off, squadra che appena un anno fa si era giudicata il tricolore proprio contro le siciliane. Ancora una volta le Nero-Verdi si sono dovute accontentare di un secondo posto, traguardo sicuramente non scontato, ma che lascia sicuramente dell'amore in bocca in seguito a una strepitosa stagione, nella quale l'En Bolerice ha conseguito Supercoppa, Coppa Italia e avrebbe potuto festeggiare il triplete nazionale con lo scudetto. Io sono molto triste ora, è difficile parlare della partita perché ora siamo con troppo sentimento, ma penso che Bressaloni ha giocato bravissimo, ha giocato di squadra oggi, tutto il merito a loro, hanno fatto quello che doveva fare. Noi non abbiamo stato bene nella partita oggi. Una menzione speciale va al pubblico presente al Palacardella. Tantissima gente sugli spalti che ha supportato le arpie in campo dal primo all'ultimo minuto di gara, congratulandosi con le ragazze della Brics & Sutero al termine della partita, un segno di grande sportività. Dopo una stagione così resta sicuramente un piccolo rammarico, ma resta anche tanto entusiasmo in vista del prossimo anno perché l'En Bolerice è ormai una certezza, una realtà che si è fermata a livello nazionale.